Siamo in via Paolo Vercesi, una traversa della Braccianese Claudia, dove c'è stata segnalata un'ennesima discarica di rifiuti abbandonati. Vedete alle mie spalle c'è di tutto, davvero non sappiamo da dove iniziare, ci sono buste contenenti rifiuti indifferenziati, ci sono delle reti, c'è un materasso, c'è un televisore, c'è anche un freezer e poi ci sono le carcasse di animali. Ci sono delle teste di cinghiale, delle zampe abbandonate, probabilmente da qualcuno che dopo aver cacciato questi animali li ha poi puliti, come si dice, a casa per poi lasciare, abbandonare gli scarti all'ambiente. Sicuramente lo ribadiamo, un gesto assolutamente di inciviltà totale perché passando da questa strada si rimane davvero colpiti dall'obrobio di questa discarica enorme abbandonata al lato della strada, c'è, e lo ribadiamo, l'isola ecologica dove si possono portare i rifiuti gratuitamente, dove vengono presi i rifiuti, c'è il servizio di Civitavecchia Servizi Pubblici che permette qualche volta al mese anche in modo gratuito il ritiro dei rifiuti ingombranti, insomma le soluzioni ci sono, essere incivili in questo modo davvero non è accettabile, anche perché Palazzo del Pincio l'aveva messo, proprio in questa zona che era particolarmente colpita dal fenomeno delle discariche abbandonate, i famosi New Jersey per dividere, appunto, non permettere alle auto di gettare i rifiuti, la soluzione però purtroppo non è efficace perché come vedete si sorpassa il New Jersey e si gettano i rifiuti in modo indiscriminato. Ci sono tanti rifiuti anche sulla strada, sulla Braccianese Claudio, abbandonati, li abbiamo visti, così come in via Felice Tazzini dove sono stati trovati anche lì dei resti di cinghiale abbandonati, sacchi di rifiuti, immondizia di ogni tipo. Abbiamo nominato via Felice Tazzini sulla strada sterrata in un piccolo spazio che si trova al lato della carreggiata, ecco un'altra discarica abusiva, c'è un televisore, ci sono dei tubi, c'è della plastica, c'è del polistirolo e ci sono dei sacchi di sfalci, il problema non sono tanto gli sfalci che si recompongono a contatto col terreno, il problema sono i sacchi neri che li contengono e che invece quelli restano nel tempo. Anche qua il messaggio è sempre lo stesso, ci sono dei modi diversi per conferire questo genere di rifiuti o meglio c'è il modo di conferire tutti i rifiuti per cui abbandonare rifiuti per strada non è bello, anche in posti che magari sembrano posti nascosti ma ci abitano delle persone con delle case per cui se fosse anche solo per loro non è certamente bello avere una discarica a due metri di casa. Anche in questo posto erano state trovate teste di cinghiale e pezzi dell'animale, chi abita nella zona ha chiamato la ASL come da prassi, la ASL è intervenuta rimuovendo le parti dell'animale ma insomma siamo sempre allo stesso punto, non è necessario l'intervento delle persone per una gestione in questo caso della cacciagione che non è certamente quella corretta.